va, va, dai, prova, 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 vabbè, ma sono stanco e non riesco, fregalo, fai il tronchetto, non allargarla tantissimo, arriva su col dietro e ti fermi, poi fai la turbettina piana e prova, ma che vada a mette il piede, c'è lì il pietro, ma che ora di cadeva solo lui, qui, arrivi su col dietro qua, bravo, gira, gira, ma perché non la fai, cioè, valla, vediamo lui che oggi gioca i jolly, appoggia il dietro qua e fermati, appoggia però, così, ancora un pezzo, ancora un pezzettino, fermo lì, appoggia il davanti, prova, appoggi il davanti e poi la provi a scaricare fuori, ma che vada arrivi qua, eh, beh, la devi smettere di insegnarmi, la devi smettere, bravo, certo, allora, dagli un colpetto davanti e poi tirala su e fermati però, perché tanto non riesci a continuare, perché sono i capotti più sotto, ehi, ma devi, devi sganciare, devi, pensa di fare, pensa che qua c'hai una, un col, devi fare una mezza volente, per appoggia, eh, devi provare, se non provi, arrivi, a mo' con sta moto, a mo', no, così andava bene, però, basta tirarlo dietro, eh, non fermarti giù sotto che ti porta indietro, fermati, po', pinza tutto davanti, eh, ma non sgancia, non sgancia, sgancia sta frizione, cazzo, così non sono buono neanche di spiegarti, bravo, aiutati, ascolta lui, lui è capace di farlo, fatti insegnare da lui, spiegagli come fai a girarti, devi, devi, devi aiutarti, non devi, non devi superare il tronco e poi spostare, quando la ruota dietro va a sbattere contro il tronco, e tendeci a saltare, eh, culo, no, il culo, peso, culo, pinzi davanti, la ruota, praticamente già per aria, ti dai completo, lo sposti, solitamente, quando proverai adesso, ti va via il davanti, perché non sposti abbastanza, prova però, fatti aiutare dal tronco ad alzare la ruota dietro, tu la devi solo spostare a sinistra, sai, sai come devi insegnarli sulla contropendenza, perché se allora scendi e c'è già la contropendenza, in automatico ti aiuta, così, eh, gira e fallo, voglio vedere adesso dove passi, eh, aspetta troppo finire l'alto dopo, la ruota dietro è già passata, invece tu devi farlo contemporaneamente, mentre la ruota è dietro, so che è contro il tronco, eh, voglio vedere dove passi, mi sono messo qua apposta, falla di lì, comincia a falla di lì, sai Lele, minimo devi saltare di qui, a terra, non mi schiacciare che mi fanno già male tutte e due le ginocchia, eh, bravo, poi c'è sul davanti, allora, sempre più stretto, bravo, sempre più stretto, va bene, e di qui adesso non può più passare, voglio vedere dove va, questa posta non riesce a farlo, è un po' più in su, perché ti scappa giù, sul davanti, bravo, fermati con sul davanti, e poi la provi a farla già così, no, ad essere lì giusto, no, ma non è il problema, il problema è portata, eh, se hai sul davanti, prova a buttarla di là, sul davanti, no, ma è molto più difficile, io come fai te, non sono capace, ma zi, no, e da te, ho riuscito a accenderla ancora, eh, eh, lei le nonna, oh, non li dai tu, metti il davanti, e poi fai un'altra cosa, ascolta, pensa di andare via diritto, non pensa di girare, no, perché tu la fai girando, pensa di andare diritto, così, e poi giri, dai Lele, sul davanti, sul davanti, non ti fermare, non ti fermare, via, 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 è perché non la tiri, 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 è perché non la tiri,